Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, è uscito il numero 67 del castello di Hogwarts, guardate, e qui, vabbè, c'è poco da dire, ci hanno dato un micro pezzetto e un nuovo personaggio di Harry Potter che fondamentalmente non aggiunge nulla a quello che già avevamo, ma la critica è piuttosto rivolta a questa porta che ci hanno dato, veramente mi sembra che sia fatta apposta un po' per allungare il brodo, però diciamo ormai ci siamo dentro per cui è inutile lamentarsi, per cui tanto vale andare a vedere cosa c'è nel fascicolo e come si monta questa porta, sarà una cosa difficilissima che ovviamente andremo a vedere insieme. Ok, allora, rimuoviamo la plastica, guardate da vicino la nuova minifigure, sicuramente, vabbè, è diversa rispetto all'altra perché è un Harry Potter con la scopa da Quidditch, quindi sicuramente, diciamo, è un valore aggiunto, ma non è che aggiunge chissà che cosa al nostro castello. Qui abbiamo la rivista che conferma ancora che il prossimo numero uscirà tra due settimane e spero che sia l'ultimo, dopodiché dovrebbe passare ad un'uscita settimanale, così forse riusciremo a finirlo prima di invecchiare. Allora, prima di andare a vedere il fascicolo e vedere questa piccola fase di montaggio, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così diciamo da non perdere nessuno dei miei prossimi video. Quindi ora andiamo avanti e vediamo il fascicolo. Allora, numero 67, parliamo di Harry Potter, strano direte, allora Harry Potter è un abile giocatore di Quidditch, al di là di tutto quello che fa in questa saga, appunto, è anche un abile giocatore. Qui, appunto, vediamo diverse fasi dei vari film dove gioca a Quidditch. Ma diciamo che quello che interessa a noi è questa parte qui. E vediamo che ci danno questa porta che va messa qui, nella sezione che abbiamo costruito la volta precedente. Quindi diciamo che, come potete capire da soli, è un'operazione da un secondo e mezzo. Quindi diciamo che la vediamo insieme, ma ecco, non serve. Per quanto riguarda invece la prossima uscita, avremo questo pezzo qui, che fondamentalmente serve per andare ad incastrare i pezzi laterali. Questi qui, quindi si vanno ad incastrare nella parte interna di questa parte qui, davanti, e poi ci si agganciano lateralmente gli altri pezzi, come abbiamo fatto nella parte di sotto. E poi ci vengono forniti questi tre pezzi, che onestamente così, senza vedere dove vanno, non capisco cosa sono, ma insomma, lo scopriremo al momento giusto. Apriamo questa nuova uscita insieme, più che per la porta, per andare a vedere un pochino più da vicino la nuova minifigure di Harry. Andiamo ad aprire, cercando di non romperla. Andiamo a guardare, ok. Cioè, per carità, è sicuramente carina da aggiungere a tutte le altre, ma insomma, forse avrei gradito un altro personaggio. Ad ogni modo, adesso passiamo alla difficilissima installazione della porta, che come immaginerete si va a mettere in questo modo qui. Allora, dobbiamo solo capire il verso, perché fondamentalmente è l'unica cosa da vedere, e sulle istruzioni andiamo a vedere che va rivolta, questa parte qui va rivolta verso il basso. Quindi, ci potevo anche provare, ma non volevo correre rischi, diciamo, no? Ecco, e questa è l'installazione della nostra porta. Operazione difficilissima, che sicuramente vi porterà via tantissimo tempo. Quindi, dopo aver messo la porta, come potete vedere, è una semplice pressione, abbiamo completato definitivamente la parte di sotto. Se tante volte doveste trovare una difficoltà ad inserirla, vi basterà chiaramente staccare questa sezione qui e aiutarvi magari con un cacciavite, ma insomma, entra piuttosto facilmente, quindi non credo che servano aiutini. Detto ciò, vi chiedo il solito pollice in su, di iscrivervi al canale, ve l'ho già detto prima, quindi, insomma, suppongo che l'abbiate già fatto. Quindi, a questo punto, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!